Signora maestra, ma lei è sicura che mio figlio è pronto? No, perché io lo posso tenere ancora un anno a casa, eh? Non è un problema. Non lo so maestra, lo vedo perso. Ho paura che mi rimanga traumatizzato. Vita mia! Sembra ieri che nasceva, adesso mi è già pronta a spiccare il volo. Amore mamma sta qui, eh? Non me ne vado, stai tranquillo. Oi tesoro, tutto bene tu? In che sezione hai tu piccolo? Ah, nelle coccinelle, il mio nei cavalucci marini. No, io sono tranquillissimo, guarda, due minuti e me ne vado. Questo distacco non mi fa stare per niente male, davvero. Vita mia, scopri il mondo. Colora la vita con i pennarelli che ti ha comprato mamma con tanto amore. Maestra, nello zainetto gli ho messo la pasta al forno e il suo piatto preferito mamma. Maestra, un'ultima cosa, cacca non ne ha fatta. Quindi mi raccomando mi faccia sapere se la fa dura, se la fa molle, perché ha avuto male al pancino la gioia mia. Va bene? L'ho sentito piangere maestra. Maria, amore mio stai male, vero? Lo sapevo che non ti dovevo portare. Adesso ti porto a casa mamma, vieni.